Musica Ecco qua, un po' di missioni extra completate e un po' di mutazioni ottenute Oh, che bello, finalmente possiamo combattere al meglio 10% con gli attacchi aerei, beh non sarebbe male eh Però anche la portata di distruttore potrebbe, potrebbe essere utile Prossima missione Tanti auguri Sì signore Il labirinto di sangue, bel nome Raggiungi le coordinate dote della Gutierrez Sì però non metterti in versione sgamo eh No no vai tranquillo Non ho paura di lui Ce la caveremo tranquillamente Eccoci qua È lui Porca troia Eh è esploso Ha usato la mia stessa mossa Ora sì che ci siamo Così si fa Così si fa Bravo fra Cazzo Dino imitato bilogico Ello stronzo l'ha fatto solo per distrarmi Dove sei? Eccolo là Forse sto inseguendo un altro dei seguaci di Mercer A dopo Dove sei? Eccoti lì Ehi Compare Sì signore È osservato Sì 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 Aspetta solo Un altro paio di passi Bel vestito fra Sì però Se magari Tiri fuori i poteri Mi fai Un piacere fra Ecco qua No dove vai? Calmo No Sta scappando il bastardo Riporta qui il tuo culo Bastardo Non mi sfuggi Sta di cazzo Ho aumentato I miei poteri apposta Situazioni Diterò dei soldi Del cazzo del genere Vieni qua Ho aumentato apposta i poteri Per questi cretini che scappano Sapete di dover prendere ogni precauzione possibile Per questo giusto? Harry questo è un messaggio Del dottor Kieric E della dottoressa Arcia Sai bene cosa significa? Credi che rischierò di deludere Alex Mercer Ora consegnalo alla base Adam Non perdere Guarda Non vedo proprio l'ora di Soddisfare Bomba biologica acquisita Perfetto Oh E come funziona la sottetta Bombetta Stiamo portando un messaggio della dottoressa Arcia A qualcuno nella base Adams Vediamo se quel qualcuno è Gutierrez Non lo so Però abbiamo ottenuto la bomba Il che vuol dire che molto probabilmente si attiva Quando prendo qualcuno e poi lo lancio via Secondo me Poi adesso lo scopriamo Dunque Gutierrez Ti trovi qui Si trova là dentro Un soldato esploso dovrebbe funzionare Un soldato esploso Perché si voglio dire Non credo che funzionerà Se mi vedono Facciamo attenzione Facciamo finta di nulla Che poi Questa cosa qui della bomba Ci può essere molto utile Nei momenti in cui dobbiamo infiltrarci Come adesso ovviamente Bomba biologica Sa che te Oh no Aiuto Che mi succede Ah ma guarda un po' Danneggia il contatto con la granata bomba biologica Allora calmi un attimo Beccati questo Stronzo Ma levati Forza compagni Colpitelo Tutto questo casino solo per te Ma perché Perché io sono bravo Ecco qua Perfetto Andiamo a prenderci Un soldatino Preso Ok ti sta bene Cretino Aia Ecco fatto Magnatelo Ah che bello Che siamo partiti da uno solo Che era infiltrato Ovvero il dottore all'inizio E adesso chiunque C'ha la stessa Cazzo in mutazione Guste lame Incredibili Anche solo un piccolo campione C'è ma d'effetto Sono abbastanza nascosto qui A quanto pare no Devo proprio uscire dall'aria Ok Ok al diavolo questa roba Troverò Gutierrez E gli chiederò cortesemente Cosa sta combinando Mercer con questo White Light Cortesemente Padre Sì pronto Eccolo lì Sì Ti pareva Porca miseria Jimmy Eller Ho sentito molto parlare di lei Mi chiedevo Se avrei mai avuto il piacere Beh A quanto pare il piacere Ce l'apra Non mi può velarci Al cazzo Neanche se me lo chiedesse Per favore Sì vabbè Backflip Beh che ti sto calcio in faccia E ora Iniziamo A fare un po' a botte Con tutti voi Vai Beccalo No L'altro Vai 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 Prendilo Ecco fatto Bravissimo E Martellata La martellata è fantastica Perché veramente Ho sbagliato bersaglio Ma proprio Cannatissimo Cambiamolo Con la lama Ecco qua Perfetto Vieni qua tu E cato in pieno No prendi 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 E non c'è neanche motivo Di fare lo stronzo Fatti mangiare E non rompere le scatole Dottoressa Archer La sua squadra Ha raggiunto l'obiettivo L'implementazione È completa Al 98% Dottor Mercer Quasi ogni scorta Di White Light È stata trattata Non basta Le voglio tutte Vuole Che torni indietro Il rischio Di esposizione Se non tornerai indietro Il rischio Sarà ben peggiore Per lei Ce n'è ancora uno vivo Vero? Dov'è? Vai Preso Proprio tritto qua in faccia La lamata Missione compiuta Oh ti dirò A livello di combattimento Credo proprio che Il nostro amicone Sia superiore ad Alex Alex sicuramente A livello di capacità Però noi A livello di combattimento Qua Eh ma va Beh in teoria Ha detto che Che dovevano infettare Tutte le scorte Quindi sì Dovremmo Trovarla Non ti dico tra poco Ma Sicuramente si farà vedere Sia superiore ad